My new school, no one's gonna stop me, no one's gonna stop me Ciao gente, stropicciatevi gli occhi e ammirate il nostro bici Non il bagno, il muro, il wall of celebrities, cioè il muro delle celebrità Ognuno dei dodici ragazzi su questo muro è una leggenda Questa è Martha Morgan che nel 1942 rubò la dentiera di Mrs. Smith La professoressa di scienze che odiavano tutti Guarda, l'hanno conservata Senza dentiera, Mrs. Smith non riuscì più a chiamare gli studenti alla lavagna Le sue ultime parole prima della pensione furono Allora ci vediamo a scuola, non in classe, in bagno Sempre se non siamo in punizione dal preside No one's gonna stop me, no one's gonna stop me Now 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 Grazie a tutti.